Catania è l'emergenza dei fiuti, bisogna accertare le responsabilità, da dove partire? Innanzitutto io dico la cosa, nel momento in cui siamo in uno stato emergenziale che l'amministrazione ha posto questo problema, io credo che la riunione che è stata fatta all'altro ieri dal capo dell'amministrazione con tutti i responsabili dei settori, secondo me andava fatta prima di trovare poi l'immondizia nelle nostre città di Catania. L'immondizia nelle nostre città di Catania. L'immondizia nelle nostre città.